Ma tu dove sei finita, che non ti si vede più? Bella domanda, in realtà per un posto al sole sono in Sicilia, la mia amata Sicilia perché poi veramente io amo la Sicilia e metaforicamente diciamo sono... Mi hai lasciata giù linda a certi guai che tu non hai idea Infatti è meglio non sapere, non vedere, non sentire e vabbè diciamo che un saluto momentaneo alla SOP in questo momento appunto essendo impegnata poi nelle riprese di un nuovo film alla fine insomma è sempre un arrivederci per un posto al sole e mai, almeno per quanto dovesse riguardare... Si diceva di Franco che si mormorava che Franco volesse la mirata No, non lo so e non posso parlare al suo posto per cui non mi permetto Per ora è un arrivederci Il tuo personaggio nel posto al sole con Giulia si occupa proprio di sociale Cioè veramente un premio del genere lo poteva prendere pure Angela Sì sì esatto, sono Angela, io sono salita lì come Angela e Claudia Infatti la cosa bella è quella che Angela, attraverso Angela Poggi mi migliora come persona perché io poi prendendo spunto dalle storie che i nostri scrittori bravissimi appunto... Che seguono passo passo la vita quotidiana Assolutamente e grazie a loro che poi mettono in scena la verità di quello che accade E io appunto tocco con mano delle realtà sociali veramente importanti Per cui alla fine sono felicissima di interpretare un ruolo che poi ha veramente tanto da arricchirmi e da insegnarmi Ti lasciamo tanti auguri del premio, di Natale, di Buonanno e ti aspettiamo allora Assolutamente sì ripeto, arrivederci Grazie e tanti saluti a voi e tanti auguri anche a voi Auguri, ciao